Nei giorni scorsi il personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Reggio Calabria ha affermato due uomini, uno 41enne di nazionalità algerina e uno 33enne di nazionalità tunisina, ritenuti responsabili dei reati di violenza sessuale e tentata rapina aggravata in concorso. L'intervento delle volanti è avvenuto a seguito della richiesta di aiuto giunta alla sala operativa dell'acquistura da parte di una donna che ha contattato la linea 113 riferendo di un'aggressione subita poco prima nell'androne del suo palazzo ad opera di due soggetti stranieri, uno dei quali, a lei noto, ha cercato di farla entrare in un appartamento al piano terra e tentando anche di impossessarsi del denaro che aveva con sé. La donna è riuscita a rifugiarsi nel palazzo accanto per chiedere aiuto alla polizia di Stato. Due equipaggi delle volanti sono prontamente giunti sul posto e hanno subito individuato un aggressore, mentre l'operatore della sala operativa restava in costante contatto con la donna. Il fermato, persona conosciuta agli agenti di polizia, poiché pregiudicato e indagato per vari reati, tra cui violenza sessuale aggravata, è stato riconosciuto dalla donna, quale uno dei due aggressori ed è stato arrestato nella fraganza di reati di violenza sessuale in concorso e tentata rapina in concorso. La vittima è stata visitata e curata dal personale del 118 per escorazioni varie, presenti soprattutto agli arti superiori, al collo, alla schiena e sul petto. Gli agenti delle volanti, notando qualcosa di anomalo, all'ingresso dell'apitazione dell'arrestato, entrati nell'appartamento, hanno fermato un soggetto di nazionalità tunisina, che è stato riconosciuto dalla vittima, quale complice nelle violenze da lei subite e sottoposto alla misura cautelare in carcere, emessa dall'autorità giudiziaria di Reggio Calabria per i reati di violenza sessuale in concorso e tentata rapina in concorso.